Ehi ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere mi sono appena svegliato Sì, sono le 7 e 48 minuti di lunedì Quindi buongiorno a tutti Oddio sembravo tanto Erika Kawaii Buongiorno a tutti Oddio sembravo tanto Erika Erika, Erika Con la K, non con la C O con la C, no con la C Sì è con la K perché se lo scrivete con la C Erika si arrabbia Andate sotto l'ultimo video di Erika Kawaii E scrivete Erika sei grande con la C Poverai, mi odierà tantissimo Oggi ragazzi come potete vedere ci troviamo su un video molto molto particolare Intanto se ho la voce così è veramente non vi scherzo perché mi sono scherzato Mi sono scherzato, vabbè Mi sono svegliato circa 10 minuti fa Diciamo non ho ancora passato quell'attesa appunto Cioè, svegliati, rincoglionito, svegliati Non l'ho ancora superato quella fase quindi un attimino nel corso del video Se cambierò, cambierò insieme a voi Quindi così Pepo sei cambiato Prima facevi video da sveglio Adesso li fai da Mi iscrivi al tuo canale Cioè, figurati Ragazzi, oggi sarà un video molto molto particolare Ma che ci tenevo a farlo Per tutti quelli balpensanti No, non è un, come si dice, product placement Semplicemente lo sto facendo perché veramente lo voglio fare Con la scusa vi informo Ragazzi, oggi ci siamo qui su Amazon Perché è iniziata la settimana del Black Friday Cioè, la settimana quella che, vedete Nuove promozioni ogni 5 minuti Scopri le offerte di oggi In attesa del giorno Mi sono nel rinco In attesa del giorno del Black Friday Ah, il 25 novembre Il 25 novembre, il venerdì Il 25 novembre probabilmente farò un altro video Come vi dicevo, siamo qua ragazzi Perché voi approfittare appunto di questi sconti che ci sono Ad esempio così Cioè, qui c'è una stampante, ragazzi, almeno Sì, è una stampante Che invece di costare 129 euro Costa 72 Cioè, puoi non prenderla? Eh, no, io ce l'ho già la stampante Quindi non mi serve Oh, oddio Mentre questa è una cosa che mi serve Io ad esempio speravo in questo, ragazzi Questa è una fotocamera Non la conosco minimamente Costa di base 950 euro Con lo sconto del matonmi per cento Costa 371 Che figata Allo schermo che si gira Sì, allo schermo che si gira Piccola informazione che vi vedo A titolo informativo Ho provato a usare la telecamera Che mi ha regalato Daniele E lo ringrazio davvero tanto Tantissimo Ma fa un casino di rumore di sottofondo Cioè, di sottofondo Anzi, adesso Se la trovo Vi faccio una specie di videoprova Ed è per quello Che continua ancora a usare il cellulare Per i vlog E non la sua fotocamera Perché appunto ho comprato pure la memory card Sto cercando la fotocamera E questa è la fotocamera appunto Che mi ha regalato Daniele Al Games Week Quindi ancora grazie Daniele Allora, reggisci un video di prova Allora, reggisci un video di prova Si vede benissimo Però non mi piace a me l'audio Questo è un video di prova Per farvi vedere la qualità dell'audio Iscrivetevi a Peppo3393 Colletto che non si fa Perché voglia non c'è Diciamo, appunto Avete visto Questo video lo sto facendo Anche perché Cioè, non penso che altri youtubers Faranno video Sulla settimana del Black Friday Cioè, più cazzo Volevo fare un video dove guardavo Insieme a voi Magari acquistavo pure Questa telecamerina Secondo me È fighissima A me è davvero figa Per me è davvero figa Soltanto per il prezzo Adesso la cosa è che Devo vedere come reggiscia Eh Assomiglia tanto Tipo alla selfie Come magari che utilizzano Tipo Stepney Forse pure Surry Oddio Sapete che non lo so Vediamo com'è questa telecamera Dai che figata Allo sportellino Ok, sì Fammi vedere come registra Oh, posso attivare pure le zebbre È bello R'immaginate mentre faccio un video Tipo, vedete apparire zebbre Figata Figata Se volessi vedere un video Registrato con quella Oddio, guardate che foto Spettacola Rì che fa Matto me Cioè aspetta Questa è la qualità Con la quale sta registrando Ma è bellissimo Aspetta Che qualità 480 È 1080 Sì, ma la regge La mia connessione È 1080 Cioè io qua Muoro Considerando che Eppure Non lo so cosa È sera Alba Penso sia sera Cioè si vede benissimo Nonostante non ci sia luce Dì vabbè stai zitto Non capisco quello che dici Cioè raga Il video è il 1080 80 Si vede benissimo Dal sonde 500 euro di telecamera Cioè 500 Ma tolmi con quelli bellissimo frame E ti sei fermato Ma tolmi Ragazzi ho fatto un po' di ricerche Sul web Diciamo perché appunto Prima di spendere Una cifra del genere Comunque Sono tanti soldi Mi sono un attimino informato E ho scoperto Che la Sony RX100M3 Cioè è la sorella minore Della camera Che utilizza Human Safari Human Safari Utilizza la Mark IV Cioè diciamo Quella dopo Che sono andato a vedere Allora scriviamo Sony RX100M4 Questa qua Dovrebbe essere Se non sbaglio La macchina fotografica Che utilizza Human Safari E si Leggendo le cose E proprio lei Dovrebbe essere Quella di Human Safari Reggita fino a 1000 FPS Una roba Oh mio dio 1000 FPS Mi sembra 1080 Come vedete Comunque il prezzo Lievita leggermente Diciamo da 600 Bam A 800 Sentito del vento Infatti Saluta Ciao Ciao Saluta 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 Che bello Quindi appunto Ragazzi Io sono dell'idea Che anche se Prendo la Mark III Comunque Si Ci sarà la differenza Però Alla fine Per quello che devo farci Comunque il vlog Comunque che si vedono bene Si sentono bene La qualità del microfono È eccelsa Secondo me Questa qua È perfetta Però mi devo decidere Entro 14 ore Perché l'offerta Entro 14 ore Finisce Si si è messo sul microfono Si è messo sul microfono Io non vorrei Vedete Io sono senza palore Senza palore Ciao palore Ciao palore Io spero non sentiate rumori strani Perché in ogni caso È il pappagallo Che si è messo sul microfono Ti puoi non mettere sul microfono Quindi ragazzi Assolutamente Questa qua La raggiungo Al carrello Cioè dai ragazzi C'è generalmente Acquistato No 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 Ragazzi Io non prenderò Ma se no puoi Non mi fai vento E stai purendo No freddo Ma non mi Cioè vabbè freddo Cioè fa vento Però freddo È finito Ok grazie mille Vedete qualche zampa No perché si è messo sopra la webcam Non c'è tanto per dire È perfetto ragazzi Abbiamo nel carrello Ah è grotto Te lo dico in italiano Nel carrello abbiamo aggiunto Questa macchina fotografica Che per i vlog È qualcosa di spettacolare Adesso Volevo andare un attimino Un po' in giro Perché appunto Il Black Friday Ragazzi È qualcosa di spettacolare Cioè come vedete Pagate a metà prezzo Un casino di cose Ad esempio Ci sono queste cuffie Penso siano delle cuffie Spettacolari Perché costano Quattrocentoventinove Ma dondimi Euro Cioè invece di pagare Quattrocentotrenta euro Le pagate centocinquanta E infatti guardate Cioè l'hanno già comprate Il trentotto per cento De delle cose Una Playstation 4 Duecentosess Settanta euro Addirittura Se volete diventare Dei killer E uccidere le popolazioni Col gas Potete comprare La maschera Per non morire Pure voi Assieme alle vittime Che mietirete Col gas Assassini Vi denuncerò Alla protezione Dei panda Così perché i panda Sono belli Qua abbiamo Un utit Multimetri Data logging Registrati Beh non so che cosa sia Questo ad esempio È un acquisto Che vi consiglio Magari a tanti di voi Che hanno bisogno Di un microfono Anche semplicemente Per parlare Con i vostri amici Su skype Su ts O dovunque vi pare Puoi non muoverti Sul microfono Che starei facendo Un bordello allucinante Questo microfono qua ragazzi Cioè il prezzo suo Sta a 27 euro Quindi assolutamente Ve lo consiglio Cioè spendete 13 euro Che è nulla E quando parlate con Hai rotto le palle E appunto magari Quando chiacchierate Con i vostri amici Invece di utilizzare I microfoni Del vostro portatile Perché ma tornami Veramente Ok C'è gente che Utilizza i microfoni Cioè proprio Installati dentro Il portatile Che quando scrivete Con la tastiera Assordate le persone L'odio Quindi un consiglio Se usate tanto TeamSpeak Skype Per parlare Con i vostri amici Questo microfono Adesso Visto che sta a 13 euro Invece che a 30 Secondo me Può essere un acquisto Assolutamente valido Anche perché per 13 euro Si sentirà sicuramente Decentemente Ma questo microfono Non lo conosco Ma lo pagate poco Comunque si sentirà Sempre meglio Di un microfono integrato Quindi assolutamente Ci sta Penso davvero Che questo video Sono uno dei pochi Se non l'unico A farlo E semplicemente così A titolo Volevo guardare Amazon insieme A voi Ah guardate Questa è la lampada Che mi è arrivata Dal sito Giappocinese Minchia 30 euro Cazzarola Addirittura vendono In offerta Il caffè 160 caffè Ragazzi Ci sta un mousepad È da 12 euro Ed è enorme 900 x 400 mm Sapete che è figo Ah è di quelli sottili No 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 Oddio però è enorme Guardate ragazzi Cioè è figatissimo Oddio bellissimo Invece di 30 euro Pagarlo 12 euro Comunque spettacolare Ragazzi Dai A me ammetto Che servirebbe Sinceramente Perché comunque Il mio tappetino Se vedete Vabbè c'è un bordello Vedete Questo qua è il mio tappetino Vedete Cioè arriva qua Il mio tappetino E la tastiera Sta fuori Poi vabbè Facciolettini Cose Che è bello Essere raffreddati Cioè quindi Questo qua volendo Potrebbe essere un acquisto Figo Un acquisto veramente figio Poi vabbè Mouse a 6 euro Che volendo Se siete senza mouse Ci sta Borse Che potrebbero essere utili La ventola Per raffreddare La playstation 4 Oh ragazzi Prendetelo Se lo usate Hai rotto le palle Amore mio Amore mio Hai rotto Quando rompi le valle A 20 euro 16.000 mAh Un caricabatterie portatile Di basse Costa 53 euro Sta a 20 euro Cioè veramente Questa è un'offerta Wow Addirittura È un'offerta L'arco Non lo so Magari volete diventare Arcieri Potete tranquillamente Comprare l'arco Poi un piano luminoso A 54 euro Vuole stare sul microfono Cioè qualcosa di allucinante Un televisore portatile Esistono i televisori portatili Non lo so Magari si chiamano computer Televisore portatile 10 pollici tv Cioè quindi tu ti porti Sto Ma I pappagalli Fanno un Ma Donmi Arrivo subito Eh vabbè Addirittura Raga questa cosa È richiestissima Una lampada da testa Ricaricabile Con led Raga tutte queste offerte Sapete che Per una settimana Quindi penso Fino a domenica 27 Cioè raga Ci saranno tante Di queste offerte A manetta E durano Tipo un 12 ore 14 ore Io non ho capito Perché il 34% Delle persone Hanno comprato Tanti minatori Abbiamo Non lo so Non hai voglia Di accendere la luce Vuoi farti Le zaganelle Notturne Ma non trovi Il tuo piffero Compra anche tu La lampada da testa In modo A farti Le zaganelle Ovunque vuoi Anche al buio No veramente ragazzi Quando Amazon Fa Oddio una tastiera Vabbè la tastiera A me non serve Sinceramente Però invece di pagarla 120 La pagate 72 70 Cazzarola Invece di pagarla 140 La pagate 70 Ma torn me Cioè che tastiera è questa La Logitech G610 Tastiera meccanica da gaming Ma torn me Comunque è figa Cioè è semplice Ma torn me Con un tasto è tanto Io quanto sono i tasti Cioè una tastiera comunque Meccanica della Logitech Comunque è buona Le tastiere della Logitech Sono buone Cioè ragazzi Allucinante Ora io non so Un attimino come funziona Perché capito Non faccio ste codon Non vendo Non sono un commerciante Però addirittura Sedia da ufficio relax Cioè invece di pagarla 100 euro La paghi 81 Cioè cazzarola Ma Amazon ci guadagna Secondo me Cioè bonus Quanto ci può guadagnare Quando fa ste offerte Del 500% Tipo io che mi sono messo Nel carrello La macchina fotografica Invece di costare 950 euro La prenderò A 570 euro Molto probabilmente La prenderò Perché comunque È un acquisto Che devo fare Perché voglio migliorare Tantissimo Le registrazioni Dei miei vlog Comunque Di quando sono in giro Eccetera eccetera Addirittura qua C'è un'altra sedia 60 euro Ma qui c'è pure Una videocamera Che invece di 66 euro La pagate 58 Cazzarola Le figata E adesso Ditemi pure voi Se non siete come me Quando vedete Questi sconti Incredibili Potete non acquistarle Le cose Potete Cioè perché sono acquisti Che durano 12 ore Se non li prendi In quel momento Non li trovi più Amazon è un paxerello Io non so Cioè Veramente Addirittura ragazzi Guardate Questo è il cavalletto Che uso io Cioè io Questo qua Il cole che c'è Se qua C'è parata Treppiede monopiede Cioè costa 70 euro Adesso sta 55 Maddonna mia Bella ragazzi Questo sconto Bellissimo Invece di pagarlo 159 e 99 Lo pagate 159 e 99 Niente Ma che stai dicendo Ma Quattro me ne Quattro me ne Ma addirittura Ma vero Me lo stai dicendo Invece di 72 e 79 Lo pagate 72 e 59 Metti caso Ti manca la monetina Da 20 centesimi Che faccio Stai scherzando Ma mica Lo prendi subito Oddio in questo momento Mi sembravo tantissimo Oddio chi è che parla così Ma Tommy Mi chiamava Vermi Stai dicendo Oddio chi è che parla così Oddio forse uno dei nirchiop Oddio Sapete che in questo momento c'è No non è quello dei nirchiop Quello che parla così Dovrebbe essere quello dei frenchmall Dovrebbe essere quello che tipo Si mette la matita negli occhi Non so perché Cioè non guardo i video dei frenchmall Da tipo Saranno mesi Non è venuta Così Mica zio Ma picchio ti sto Ma Piano luminoso led Ma che serve il piano luminoso led Scusatemi Cos'è sta Che cosa serve Ci disegni sopra Porca vacca Ma è enorme Sta cosa è figa Sento non so quanto sia Cioè ma sembra figa Cioè il piano luminoso led L'ho attaccato al pc Tipo per chi usa photoshop E ste cose qua È figa Oddio È pure sottile Non penso sia proprio questo Proprio questo modello qua Ma lo utilizzano pure Fra Frog e Richard Htt Questa cosa Quindi non proprio questo Quello di loro Penso costi Anche sopra i mille euro Perché loro ci lavorano Quindi Cioè loro lo usano Proprio seriamente Capito Quindi penso che loro Abbiano quello Tipo professionalissimo Che tu batti le mani E la tavoletta Dice Aspetta che è di segno Cioè tipo una roba del genere Comunque ragazzi Io spero tantissimo Comunque questo video di oggi Vi sia piaciuto Cioè semplicemente Volevo vedere insieme a voi Com'era questo Black Friday di Amazon Ci sono un casino Di prodotti Veramente Che vanno in offerta Cioè così dall'oggi al domani Quindi questa settimana Ragazzi vi consiglio Vivamente di seguire Amazon Cioè guardatelo Perché potreste trovare La cosa che voi cercate Scontata del Mattoni mi per cento Cioè cazzarola E davvero raga Non è un product placement Semplicemente Cioè chi come me Vuole risparmiare Cioè cazzarola Ne vale la pena Cioè ad esempio A me serviva La macchina fotografica E invece di pagarla Mille euro Cioè la sto pagando 579 Ma cosa importante Che devo vedere Ma ce li ho i soldi Sulla carta Per poterla comprare E anche questo È importante Non è che Chiorin Vorrei comprare qualcosa Ce li hai i soldi No Mi saluta Dice vadi Per favore A quel paese Cazzarola È vero Le batterie Batteria ricarica Oh Tre madonna 30 euro Cos'è una batteria Cioè se mi si scarica Mentre faccio i vlog Come faccio Chiorina Scutami Chiori Se mi si scarica Come faccio Cioè rimango senza Cioè come si ricarica Si ricarica il computer Cioè come si ricaricano Ste batterie Cioè io spero Si ricaricano Tramite presa Cioè del USB Minus USB No Così l'attacco Non so La presa e la corrente Si ricarica No Cioè spero Non lo so Magazzo funziona O serve proprio La geggino Cioè proprio Ricarica batterie canone Non lo so Venitemi in soccorso Detto ciò ragazzi Io spero del mio video Oggi vi sia piaciuto Comunque spero tantissimo L'abbiate apprezzato Era un video Che volevo fare un attimino Così guardare insieme a voi Le cose Questa macchina fotografica La prenderò Assolutamente Perché comunque mi serve Ci devo lavorare Comunque vi voglio portare Video più fighi Quindi secondo me È un investimento Che si può fare Poi la sto pagando Tipo alla metà del prezzo Cioè invece di 1000 euro La sto pagando 600 Cioè non è la metà Però cazzarola Capita bene Su 400 euro Cioè su un Moonset dei piccioli Da noi si dice Vuol dire Sono tanti soldini Detto ciò ragazzi Noi ci vedremo In un prossimo video Vi voglio bene E magari nei prossimi giorni Appena mi arriva Ve la farò vedere Noi ci vedremo In un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao Ogni volta che parlo Il mio dondolo C'ho i capelli Che parlano e dondolano Ah ah ah